Dal Vangelo secondo Luca Una buona domenica a tutti. In famiglia in genere ci si vuole abbastanza bene. Fino a quando rimangono i genitori, anche anziani, anche ammalati, i fratelli hanno un punto di riferimento e non sorgono particolari discussioni. Quando è che nascono i problemi? Quando i genitori vengono a mancare. Manca questo punto di riferimento e poi soprattutto c'è un'eredità da dividere. Di fronte al denaro e ai beni anche gli uomini migliori, anche i cristiani, finiscono spesso per perdere la testa e per non vedere se non il proprio interesse. Magari c'è un fratello che è bisognoso ma ognuno pensa ad avere quello che gli spetta e si passa sopra spesso persino ai sentimenti più sacri. A volte con l'aiuto di qualche amico saggio le parti riescono a trovare un accordo ma altre volte le discussioni si protraggono, si arriva alle offese, si alimentano i rancori che si protraggono poi per anni e i fratelli finiscono a volte per non rivolgersi più nemmeno alla parola. Bene, queste cose sappiamo, capitano oggi, ne abbiamo tutti l'esperienza, capitavano anche al tempo di Gesù. La ragione è molto semplice, è che sia al tempo di Gesù che oggi si seguono dei criteri che portano inevitabilmente a questi dissidi, a queste incomprensioni. Quindi è una logica che Gesù è venuto a cambiare. Non è. Se si cerca di risolvere un caso concreto lo si può anche risolvere ma poi il problema si ripropone perché è il principio di fondo che è sbagliato e Gesù lo metterà in chiaro proprio di fronte a un caso che è stato presentato a lui. Sentiamo che cos'era accaduto. Uno della folla disse a Gesù Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose O uomo, chi mi ha costituito giudice o divisore sopra di voi? E disse loro Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia Perché anche se uno è nell'abbondanza La sua vita non dipende da ciò che egli possiede Il caso che viene presentato a Gesù E le sorelle si erano ancora nubili Quindi gli aspettava di più Il fratello minore va a lamentarsi da Gesù perché questo fratello maggiore Non sta alle norme e alle leggi Che cosa fare? Beh, diciamo che i rabbini erano felicissimi Quando si presentavano queste questioni Un po' come gli avvocati di oggi E noi che cosa avremmo fatto? Avremmo cercato di rimetterli d'accordo Appellandoci alle norme vigenti E a un po' di buonsenso Forse ci saremmo riusciti in questo caso Ma non avremmo risolto Gli altri casi Che si ripropongono sempre C'erano al tempo di Gesù E si ripetono oggi Perché è il principio di fondo Quello che crea questi problemi Qual è la reazione di Gesù? Forse ci sorprende un po' Perché di fronte alla richiesta di aiuto Pare che lui sia addirittura poco cortesico Per dire cosa mi interessano i vostri problemi Non è così In realtà lui non accetta Di lasciarsi coinvolgere in questo caso concreto Perché la domanda che gli è stata posta Per lui non ha senso Lui non può diventare giudice divisore Perché è venuto a introdurre nel mondo Un criterio di giustizia diverso Il criterio di giustizia seguito allora e oggi Creerà sempre questi problemi È per questa ragione Che Gesù non accetta Di risolvere questo caso Va a cercare le ragioni per cui ci sono Queste situazioni Cosa risponde? O uomo Chi mi ha costituito giudice o divisore sopra di voi? È importante Non lo chiama per nome Dice o uomo Perché il messaggio è rivolto all'uomo A ognuno L'uomo che segue questi criteri Finisce per litigare Per fare anche delle guerre Vedi uomo Vedi uomo Dice Gesù Dove portano i criteri di giustizia Che avete inventato voi Portano ai dissidi Alle divisioni E io non sono venuto a praticare Questa forma di giustizia Ma a liberarvi Da ciò che vi divide Il divisore È il diabolos Il diabalein E chi introduce questi criteri Che non sono quelli della giustizia di Dio Gesù vuole guarire Non questo malato Ma la malattia Che crea Queste situazioni Da dove nascono i guai? Da non avere chiaro in mente A chi appartengono i beni di questo mondo Di chi sono? Per l'ateo Non crede in un Dio È chiaro I beni appartengono a chi A chi ha avuto la fortuna Di trovarseli fra le mani A chi se li ha guadagnati A chi li ha legalmente accumulati Lucrando sullo scambio È chiaro Che su questi beni Può comandare anche da morto Perché sono suoi Questa è la giustizia Che anche noi oggi pratichiamo Per il credente Questo criterio di giustizia È una menzogna Perché tutto è di Dio E se Dio è padre di tutti gli uomini Gli uomini fra di loro Sono fratelli E l'eredità è quella che ci lascia Dio Non la si riceve dal genitore biologico Da Dio Sono suoi beni materiali Del creato Li ha preparati per tutti I suoi figli Quando vengono al mondo Non ci sono i più svantaggiati O i meno svantaggiati I beni sono quelli che il Padre del Cielo Ha preparato per tutti E sono suoi anche i beni spirituali L'intelligenza Le capacità Le condizioni favorevoli Che ci hanno permesso Di crescere Allora Questa eredità Ricevuta da Dio Non è da dividere È da consegnare Al fratello bisognoso E continua Gesù State attenti O meglio È importante Il significato del testo originale Testo greco Che significa Continuate a stare attenti Continuate a tenervi lontano Da ogni genere di cupidigia E viene impiegato Un termine greco Pleonexia Che significa La bramosia Di avere sempre di più Di accumulare Gesù fa una raccomandazione accorata Perché incombe Un pericolo molto grave Quindi state attenti A questo pericolo Che è la bramosia Di accumulare i beni Guardate La situazione del mondo La conosciamo Molto bene tutti Il rapporto Dell'Oxfam Recente Mostra come Il 70% Della popolazione Mondiale Ha a disposizione Il 3% Dei beni Qui Qualcosa è andato Storto In questa distribuzione Dei beni Anche seguendo Quelle che sono Le leggi Dello Stato Si è creata Questa situazione Perché la giustizia Degli uomini Non è quella Di Dio E Gesù Vuole chiarire Proprio Questo punto Ci chiediamo Da dove nasce Questa pulsione All'accumulo Questa pleonexia Pleonechen In greco Vuol dire Avere sempre di più Non ci basta mai Bene Questa pleonexia Questa bramosia Che dobbiamo controllare Perché è pericolosissima Ci rovina Come uomini Non ci lascia Vivere Da persone Nasce Dalla paura Di perdere La vita È la figlia Primogenita Della paura Della morte Cosa dice Gesù Cosa dobbiamo fare Della nostra vita Se non vogliamo Perderla Perché se ne va La nostra vita Gesù dice Vuoi trattenerla Donala È come Chi getta il seme Nella terra Muore Ma poi Viene fuori La spiga Se tu vuoi Conservare La tua vita Che te la vedi Andar via Donala La trasformi In amore E l'amore È il divino Che è in noi E quello Nessuno te lo tocca Non andrà perso Una goccia Di questo amore La paura Qual è È di donare La vita Perché Pensi di perderla Ma donandola Dice Gesù La trattieni Bene È questa Paura Della morte Che porta Ad accumulare I beni E allora Che cosa Accade Accade Che ciò Che conta Di più Che cos'è Pensiamo I ragionamenti Che sentiamo Continuamente Ciò che conta Di più È l'assicurazione Sanitaria Il calcolo Della pensione Tutto ciò Che ci rassicura Perché così Ci illudiamo Di avere Il pieno Controllo Della nostra Esistenza Problemi Che ci interessano Allora Quali diventano Se si perde di vista La vita donata Che Gesù Ti ha proposto Diventano Mangiare sano Far ginnastica Fumare Così abbiamo La sensazione Di avere in mano Il nostro futuro Idolatriamo La forma fisica La salute I beni Ecco Additata Da Gesù La causa Di tutti i mali Ci si illude Che trattenendo I beni Noi Riusciamo A vincere La morte Ma con i beni Noi possiamo Comprare Qualche anno In più Di vita Ma non La vita Gesù ci dice Come conservare La vita Non aggiungere Qualche anno In più Sì Con i soldi Posso Comprare Qualche anno In più Qui Si nota Molto bene Che Gesù Non disprezza I beni Materiali Ma L'uomo Se vuole Rimanere Uomo Deve essere Distaccato Da questo Mondo E Deve avere Una prospettiva Di vita Che va Al di là Di questa Realtà Materiale E' quello Che Dice La prima Lettera A Timoteo Al capitolo 6 Non abbiamo Portato Nulla In questo Mondo E nulla Possiamo Portare Via Alla Dogana Viene requisito Tutto Quando Abbiamo Da mangiare Di che Coprirci Accontentiamoci Perché L'attaccamento Al denaro È la radice Di tutti I mali Continua Gesù Con una Verità Fondamentale Anche se Uno è Nell'abbondanza La sua vita Non dipende Dai suoi beni La riuscita Di una vita Non si misura Dalla quantità Di beni Accumulati C'è questo Errore Di valutazione Che è presente Oggi Anche nei credenti Nei cristiani È molto Difuso Qual è il valore Degli uomini Come viene Calcolato In base ai beni Che possiedono Se vuoi essere Qualcuno Devi avere Soldi C'è una pagina Del libro Del Coelet La voglio citare Coelet Parla Come se fosse Salomone Quindi Salomone storico Conosciamo La persona Che ha avuto Tutto Dalla vita Sentite cosa dice Al capitolo Secondo Perché Gesù Conosceva Questi testi Ragiona In base A questa saggezza Dell'Antico Testamento Dice Salomone Ho voluto Soddisfare Il mio corpo Con il vino Mi sono dato Alla follia Ho intrapreso Grandi opere Mi sono fabbricato Case Mi sono fatto Parchi Giardini Vi ho piantato Alberi Ho acquistato Schiavi e schiave Mogli e concubine Trecento moglie Mille concubine Aveva Salomone Ho accumulato Argento oro Ricchezze Di re Mi sono procurato Cantori e cantatrici Con le delizie Dei figli dell'uomo Sono diventato grande Più potente Di tutti i miei predecessori In Gerusalemme Non ho negato Ai miei occhi Nulla di ciò Che bramavano Conclusione Ho preso In odio La vita Ecco Questo saggio Coelet Dice Stai attento Alla pleonexia Perché Una vita riuscita Non la si misura Dai soldi Che uno ha Sentiamo adesso La parabola Che Gesù racconta Poi disse loro Una parabola La campagna Di un uomo ricco Aveva dato Un raccolto Abbondante Egli ragionava Tra sé Che farò Poiché Non ho Dove mettere I miei raccolti Farò così Disse Demolirò I miei magazzini E ne costruirò Altri più grandi E vi raccoglierò Tutto il grano E i miei beni Poi dirò A me stesso Anima mia Hai a disposizione Molti beni Per molti anni Riposati Mangia Bevi E divertiti Il personaggio Che Gesù Introduce Nella parabola È un uomo Baciato Dalla fortuna E c'è anche Simpatico Perché è uno Che lavora Si impegna È previdente Tiene ottimi risultati E sappiamo Che nella mentalità Del tempo Coloro Ai quali Andavano bene I raccolti Era il segno Che anche Dio Li proteggeva E poi Non c'è Nessun accenno Che imbrogliasse Che non pagasse Le tasse No Quindi Supponiamo anche Che fosse una persona onesta Dovrebbe quindi essere La persona più felice Del mondo Invece Di fronte A questi raccolti Abbondantissimi Per lui Cominciano i problemi E i grattacappi Dovrebbe essere felice Invece no Comincia a ragionare Tra sé Cosa faccio adesso Che farò Perché ho tutti questi beni E non so Che cosa farne La parte centrale Della parabola di Gesù È un lungo ragionamento Che il ricco fa Con se stesso Il suo problema Non è produrre Altra ricchezza Ce n'ha già tanta Ma è Cosa farne Cosa farò Basilio di Cesarea In Cappadocia Ha una pagina Stupenda La voglio Leggere Perché dice La domanda Che si pone Quest'uomo Che adesso è Straricco È la stessa Che si pone Chi è nel bisogno Il povero Il quale dice Adesso che cosa farò La stessa domanda Si pongono i due Sentite cosa dice Basilio di Cesarea È infelice Questo uomo ricco Per la fertilità Dei suoi campi Per quello che ha Più infelice Per quello che lo aspetta La terra A lui Non ha prodotto Dei beni Gli ha portato Dei sospiri Non gli accresce Abbondanza di frutti Gli porta Preoccupazioni Pene Ansietà Si lamenta Esattamente come i poveri Il suo grido Che cosa farò Non è forse Il medesimo Che emette L'indigente Dove troverò Il cibo Il vestito Il ricco Fa lo stesso Lamento È afflitto Ciò che porta Gioia Agli altri Uccide lui Non si rallegra Quando i granai Sono tutti pieni Le ricchezze Sovrabbondanti E incontenibili L'offeriscono Ha paura Che qualche goccia Gli sfugga E sia motivo Di sollievo A un indigente Nulla Gli deve scappare Bene E lui adesso Comincia a fare Il ragionamento Cosa farò Di tutti Questi beni La parabola La parte centrale È il ragionamento Che fa Questo uomo ricco Che arriva A trovare La soluzione Farò così Beh Le scelte Sono due C'è una grande Quantità di beni Fuori C'è gente Che ha bisogno Di questi beni Quindi Lasciare uscire I beni No Siccome Non ci stanno Più nei magazzini Invece di lasciarli uscire Lui aumenta Il contenitore Farò dei magazzini Più grandi Nei quali Metterò Tutti I miei beni Non usa I beni Secondo la loro natura I beni Sono Di Dio E sono destinati A chi è nel bisogno Se hai avuto La fortuna Sei stato Baciato Dalla fortuna Non per questo Devi aumentare I magazzini Hanno dei destinatari Questi beni Chi accumula Per sé Chi Se ne accaparra Più Del dovuto Di ciò che ha bisogno Stravolge il progetto Del creatore Continua Tirò a me stesso Quindi aumento La trasgressione No Vuole semplicemente Essere tranquillo Non sogno Una vita Dissoluta No Vuole una vita Serena E basta Bene Questo uomo È il risultato Della pleonexia Del bramare Di avere Sempre di più Personaggi Della parabola Sono tre Due Li abbiamo già incontrati L'uomo ricco I suoi beni Non c'è Nessun altro Questo uomo Ci chiediamo Non ha famiglia Mogli Figli Vicini di casa Gli amici Gli operai Gli ha certamente Vive in mezzo alla gente Ma lui non la vede più Perché è questo Ciò che fa la pleonexia Ti fa perdere la testa Non vedi altro Che i beni E chi ti aiuta A aumentare questi beni I discorsi che ti interessano Sono quelli che riguardano I beni Nella sua mente Non c'è Posto Per nient'altro E quindi certamente Per Dio Non c'è I beni Sono quell'idolo Che ha creato Il vuoto Attorno a quest'uomo Lo ha disumanizzato Mancano tutti i rapporti Che caratterizzano La persona umana Anche l'agricoltore In fondo Non è più un uomo È una cosa È una macchina Che produce Che fa calcoli È un registro di conti Bene Adesso Entra in scena Il terzo personaggio E il suo giudizio E il suo giudizio È quello che conta Alla fine Sentiamo come la pensa Questo terzo personaggio Ma Dio gli disse Stolto Questa notte stessa Ti sarà richiesta La tua vita E quello che hai preparato Di chi sarà Così è Di chi accumula tesori per sé E non si arricchisce Presso Dio A questo punto Della parabola Compare il terzo personaggio Dio Che in quella stessa notte Gli chiede conto Della sua vita Se in questa storia C'è qualcuno Che si comporta In un modo Incomprensibile Sembra essere Il proprio Dio Qual è Quasi l'impressione Che sia geloso Che adesso Questo lavoratore Che ha faticato tanto Si goda anche lui Un po' la vita Bene Non è stato Dio A farlo morire Lui è morto Certamente Di stress L'insonnia I fastidi Troppo lavoro Insomma è morto Di infarto Il problema è Che il giudizio Dà Dio Della vita Di quest'uomo È un giudizio pesante Non dice Quest'uomo era cattivo Va all'inferno No Il giudizio è Folle Pazzo Afron Uno che non ha riflettuto Non ha costruito Nulla Che rimanga Nella sua vita Perché i beni Che lui ha accumulato Se non sono stati donati Questi Non li porta con sé È un povero uomo Di cui c'è da provare Compassione Uno sfortunato Che ha bruciato La sua vita Per accumulare Per accumulare beni Che adesso Non sa nemmeno A chi andranno Non ha capito niente Di che cosa significhi vivere Cosa ci stiamo a fare In questo mondo Qual è il senso della vita Pazzo Pazzo Perché è pazzo Secondo il giudizio di Dio Perché ha commesso degli errori Primo errore Da cui poi sono venuti La realizzi Perché costruisci amore Ma se tu non ci pensi Ti lasci prendere Da questa pleonexia Dalla bramosia Di accumulare beni Che è Lo dicevo La figlia primogenita Della paura Della morte Accumula beni Pensando Di vincere la morte No Al massimo Ti compri qualche anno In più di vita Questo attaccamento ai beni Gli ha fatto dimenticare Che questi beni Sono realtà precarie Per cui È insensato Attaccarvi il cuore Dice bene il Salmo 39 Come ombra L'uomo che passa Accumula ricchezze E non sa poi Chi è che le raccoglie Agli occhi del mondo Questo uomo appariva saggio E per Gesù invece È pazzo Voleva garantirsi Il futuro Ma ha sbagliato tutto Ha puntato Su ciò che perisce E la ricchezza Ti inganna Perché espelle Dalla mente Il pensiero Che la nostra vita finisce In passato La morte Era agitata Come uno spauracchio Oggi Siamo in presenza Del fenomeno opposto Ma è ugualmente Dell'eterio Si cerca di far Dimenticare Che nel momento stesso In cui Cominciamo a vivere Cominciamo Anche ad avvicinarci Alla conclusione Della nostra vita L'insensatezza L'insensatezza L'ottundimento Provocato Dal denaro È facilmente Rilevabile Nel fatto Che proprio In presenza Della morte La cupidigia Fa rimuovere Il pensiero Della morte E questa scelta Porta alla pazzia E il sintomo Più evidente È questa Rimozione Chi idolatra Il denaro Diviene un paranoico Vive in un mondo Che non esiste Un mondo Che pensa Che sia eterno No Dimentica La misura Dei suoi giorni Alla fine Della parabola Viene indicato Il secondo errore Che ha commesso Quindi il primo Era Dimenticare La finitezza Della nostra vita E sapere Su che cosa Puntare Il secondo errore Ha accumulato Per sé Non ha prodotto Beni Più Bene uno Produce E più È in sintonia Con il disegno Il progetto Di Dio Il problema È che Quest'uomo Ha accumulato Per sé È pazzo Perché Si è ricchi Non di ciò Che si accumula Per sé Ma di ciò Che si dona E la sua vita È un programma Privo di amore Ha accumulato Per sé Non ha costruito Ciò che poi Rimane Il terzo errore Che ha commesso Ha escluso Dio Dalla sua vita L'ha sostituito Con un idolo E chi non possiede Campi E non ha un conto In banca Non è toccato Allora Da questa parabola Gesù Non mette in guardia Chi ha molti beni Ma Chiunque Accumula Per sé Chi accumula Per sé Non si arricchisce Davanti a Dio E Com'è che ci si arricchisce Allora Davanti a Dio Gesù Lo spiega Subito dopo Nello stesso Vangelo di Luca Noi troviamo Gesù che dice Fatevi borse Che non invecchiano Un tesoro Inesauribile Nei cieli Dove i ladri Non arrivano E la tignola Non consuma Perché Dove È il vostro Tesoro Là è anche Il vostro cuore C'è qualcosa Che possiamo portare Con noi Che ci segue ovunque Anche oltre la morte Non sono i beni Sono le opere di amore Non ciò che abbiamo avuto Ma ciò che abbiamo donato Questa È la vita Realmente umana La vita Di chi Impiega Tutti i beni Di questo mondo Che ha ricevuto da Dio Per costruire Amore Auguro a tutti Una buona domenica E una buona settimana